Mi sono piaciute le giovani che sono entrate, che hanno debuttato, quelle come Chiara Beccari che comunque è la seconda partita, hanno fatto bene e magari il fatto che le ragazze hanno provato a fare le cose che ci siamo dette ma probabilmente il primo tempo avevamo anche una pesantezza fisica perché è normale, abbiamo fatto due settimane molto intense di lavoro e quindi il fatto anche di non essere stato molto fluido nel gioco credo sia di peso da questo aspetto fisico e poi magari anche un po' di tensione perché comunque la partita prima di partire per il mondiale, il fatto di provare a fare le cose le aspettative per andare al mondiale, insomma un po' tutto poi nel secondo tempo le cose sono andate molto meglio ma perché probabilmente la squadra si è sciolta sia da un punto di vista fisico che mentale e cosa non mi è piaciuto è il fatto che dobbiamo sicuramente essere più cattive sotto porta più determinate, più affamate perché poi quando hai le occasioni le devi concretizzare perché quando saremo al mondiale non ne avremo tante e insomma quindi cose positive e cose meno positive l'aspetto emotivo di tensione ci sarà sicuramente perché vai a fare un mondiale in un contesto bellissimo, con tanta gente però è chiaro che adesso insomma da questo punto di vista abbiamo anche una diciamo come gruppo squadra abbiamo anche una maturità diversa perché ci sono giocatrici che hanno fatto la Champions hanno fatto partite importanti, hanno giocato il mondiale eccetera e quindi bisogna che come si lavora per migliorare su tutto dobbiamo lavorare anche su questo aspetto anche questo è un aspetto che fa parte dell'atleta di alto livello cioè sì avere la tensione ma quella giusta tensione che non ti blocca quindi insomma credo che ci sarà perché è inevitabile però credo che insomma sarà una tensione che riusciremo a gestire nei limiti del possibile Grazie mille! Grazie mille!